Buongiorno a tutte e a tutti. Apro questa comunicazione settimanale con l'aggiornamento della situazione tematica riferita al rigasificatore. Nella giornata di giovedì scorso sulla tematica del rigasificatore si è svolta la quinta conferenza dei capigruppo nella quale dagli uffici comunali preposti sono stati presentati e condivisi i primi indirizzi in merito alla delibera di espressione del parere che sarà portata nel prossimo Consiglio Comunale. Lunedì prossimo è riconvocata una nuova alla sesta conferenza dei capigruppo. Altresì sono stati presentati i primi indirizzi in merito ai contenuti della prossima delibera di giunta riferita alla procedura di valutazione di impatto ambientale da presentare nei prossimi giorni. Prossimo Consiglio Comunale. Sempre sul tema del rigasificatore per espressione del parere è convocato il prossimo Consiglio Comunale che setterà martedì 17 ottobre 2023 alle ore 20.30 presso la sala consigliare Piazza Costituzione. L'ordine del giorno è consultabile presso le bacheche. Site sul territorio oppure sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it. Progetto Way Town Twinning. Il Comune di Quiliano con il Comune gemellato di Eduvcina, Slovenia, ha presentato il progetto Twinning Indie Community relativamente al bando europeo Cerv Town Twinning che valorizza le esperienze dei due paesi maturate a partire dagli anni 70 nei pati di amicizia e nelle iniziative di gemellaggio. Il progetto che se risultante vincitore avrà il suo avvio nel 2024 si compone di due eventi denominati workshop che verranno sviluppati fisicamente nei territori di Quiliano e di Eduvcina ed un ultimo evento conclusivo che si terrà online. I workshop si concentreranno su alcune esperienze di successo adottate dai due paesi coinvolti per favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita democratica attraverso la conoscenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Quiliano nonché il Parlamento dei Ragazzi del Comune di Eduvcina e attraverso la diffusione delle esperienze di bibliopedagogia con l'obiettivo di un uso indipendente delle informazioni. Il progetto è sostenuto da diversi partner, l'Aicra e Liguria favorisce e sostiene gli enti locali nel lavoro nel processo di europeizzazione e di integrazione. La Rete dei Comuni Sostenibili accompagna i comuni al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La società cooperativa arca tutte le infanze ai giovani, gli anziani e le persone svantaggiate. La biblioteca Lavric Eduvcina sostiene il lavoro con i giovani e il lavoro bibliopedagogico ed il lavoro con i gruppi speciali. Eduvcina Friends of Young Association opera per migliorare la qualità della vita dei bambini, adolescenti e famiglie. DECO. Il Comune di Quiliano entra a far parte del registro regionale dei comuni con prodotti DECO con il numero 002. La decisione è pervenuta con decreto dirigenziale regionale di efficacia della denominazione comunale dei due prodotti locali, Cavolo Broccolo di Valleggia e Cavolo Capuccio di Valleggia. Si tratta di un passaggio importante nel percorso di riattivazione delle DECO che ha avuto il suo avvio nel 2021 con il colgimento dell'azienda locale Belfiore che ancora oggi coltiva i due cavoli, del Cersa di Albenga e del Comitato Comunale DECO. Tutto ciò al fine di elaborare disciplinare di produzione dei due prodotti agroalimentari storici del territorio. La DECO denominazione comunale rappresenta infatti un riconoscimento concesso dalla locale amministrazione comunale ad un prodotto tecnica di allevamento, di coltivazione, ricette e manifestazioni in genere strettamente collegata al territorio e dalla sua comunità con una storicità evidente, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni di origine vigenti. Grazie alle iscrizioni dei due prodotti Cavolo Broccolo di Valleggia e Cavolo Capuccio di Valleggia nel registro giornale dei comuni con i prodotti DECO si aprono nuovi scenari di promozione ed un riconoscimento della DECO a livello regionale. Per chi volesse consultare il registro comunale delle DECO della città di Quiliano è disponibile per la visione sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it alla sezione registro DECO. Florville. Da ieri sera con una delegazione del nostro comune siamo in Borgogna a Florville per la firma del patto di gemellaggio tra il comune di Quiliano e il comune di Florville. Il rapporto di amicizia del comune di Florville è andato rafforzandosi negli anni grazie alla fratellanza si grata con la comunità dei comuni del Maconnet Valdeçon. Questo è un ottimo punto di rafforzamento dell'amicizia per aprire nuovi scenari condivisi di collaborazione istituzionale, tra cui si evidenziano le relazioni di fiducia, la promozione dei rapporti permanenti di amicizia, gli scambi in ambito culturale, formativo, sportivo, turistico e commerciale. Puliamo il mondo. Nella giornata di ieri si è svolto in collaborazione con l'Istituto Convenzivo di Quiliano e Lega Ambiente di Savona e l'iniziativa di Puliamo il Mondo, che ha visto coinvolti circa 300 alunni con i loro insegnanti. Si ringrazia gli alunni, gli insegnanti, la direzione scolastica e i volontari della Lega Ambiente per la fattiva collaborazione confermando l'impegno e sensibilità ai temi ambientali. Buon fine settimana a tutte e a tutti. Grazie. Grazie.